ciao a tutti e bentornati su indie gameplay ita oggi siamo su film maker tycoon uno di quei giochi che vi avevo portato nei nella rubrica so come si chiamava non vedo l'ora insomma quei giochi in uscita tra il 2019 2020 ed è un gioco dove simuleremo il diciamo la creazione di uno studio cinematografico lo chiameremo lindis studios e dove andremo a acquistare i vari scenari le varie le varie cose che che il gioco ci consentirà di acquistare è un grande punto di domanda questo titolo perché guardando gli screen guardando i video sembra veramente figo e ho deciso di provarlo qua insieme a voi poi ovviamente sempre in base al numero di mi piace a quanti commenti riceveremo si valuterà se continuarlo con altri gameplay di approfondimento però questo è e non lo dico troppe volte uno di quei giochi che io aspetto ti aspettavo di più hey hey guarda chi c'è ho sentito che tutto questo terreno è tuo ora ah tu papera fortunata vabbè il nono il mio nome è jo hollywood e sono lo lo per mostrarti tutto la cosa dello movie biz insomma tutto il business qua vabbè se sei felice tu lo sai batti le mani no insomma se 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 vuoi ti faccio vedere tutto se qua posso dirgli vai via lo so no non ho idea di che cosa stia facendo mi ricorda tantissimo movie the movies scusate the movies gran gioco e spero possa essere qualcosa che possa più o meno avvicinarsi a a quel tipo di gioco della maxis se non ricordo male bene sei pronto iniziare a fare un po di film io ribadisco sono un regista in erba insomma ho fatto qualcosina e quindi mi tocca particolarmente tutto questo datti un'occhiata in giro usando il vast zoom con la rotellina del mouse non essere timido quindi ci muoviamo e zoom cosa che non posso zoomare niente no ok adesso me lo fa fare va solo avanti no ok va anche indietro ok va tutto bene si va bene tutto magico va bene se fossi in te iniziare costruendo un ufficio di scrittura dei copioni e dove c'è un magico inizio allora clicca sulla sull'icona delle costruzioni per aggiungere l'edificio e con zx lo puoi ruotare puoi personalizzare il tuo lotto in base a quello che ti ti serve ok allora costruiamo allora dov'è che l'icona della costruzione mi dà una freccettina lì ma vabbè allora questa è sono le stanze che si possono costruire all'inizio è una gettata d'erba proprio illimitata veramente molto grande grandissimo questo questo terreno che abbiamo ereditato va benissimo allora iniziamo metterlo qua allora lo screenwriting ok con zx possiamo ruotarlo va bene lo mettiamo lo mettiamo qua dai riuscissi a ruotarlo bene non si può tocchettino ok ok ogni buon film ha bisogno di una crew di un di un team insomma mi sfuggiva il termine prima che il film inizia a essere girato e bisogna di assumere staff e assegnarlo al loro ruolo la prima cosa ha bisogno abbiamo bisogno di uno scrittore di copione lo scrittore di copione farà i suoi iscritti e si occuperà anche di altri doveri assumiamono assumiamone uno clicca sull'icona e guarda le nostre opzioni che è questa qui tu puoi vedere i potenziali assunti in vari nelle posizioni varie di di giramento di film scegli uno scrittore di copioni e trascinalo sull'otto allora può scrivere cortometraggi perde energia ok può scrivere short film script e beh li paghiamo un sacco tutti e e hanno tutti più o meno è più passano i giorni più escono i nuovi candidati possiamo vedere che ci sono attori registi scrivere e staff io prendo questo nuovo questo qua perde più energia quindi ne prendo uno e lo assumo ok eccolo lì loro butto qui ora stiamo andando prendendo la direzione giusta dobbiamo avere da qualche parte qualcosa da da riprendere giusto per iniziare la preproduzione abbiamo bisogno di costruire un set poi ci sono più di cento scene registrabili ve lo dico perché mi ha guardato puoi costruire più set per ora raccomando uno studio un appartamento di studio per iniziare clicca per aggiungere un scusami ma tu vabbè vai un po dove ce ne voglio non so avrei bisogno di te io ma va bene allora costruiamo il movie set vedete che qua possiamo passare tra l'admin buildings il movie set e le decorazioni la vegetation e i tile allora facciamo modern studio 50 mila dollari ci costa va bene lo mettiamo qui è ok siamo quasi pronti per utilizzare la videocamera ora abbiamo le fondamenta il vero processo della realizzazione di film può cominciare ogni film inizia con una preproduzione guarda il grande bottone blu lì dove la magia accade ragazzo vai e clicca lì ok ok campione questo è il pannello di preproduzione è dove iniziare al processo per portare in vita i tuoi film oltre laggiù puoi vedere lo screenwriter eccolo lì quello che scrive copioni che tu hai appena assunto andare e poi trascinarlo ok puoi assumere staff in ogni momento che include gli scrittori i registi e gli attori quando tu li hai assunti spenderanno tempo sul tuo terreno fino a quando pagheranno fino a che non gli assegna un film ma ecco il motivo per cui andava in giro il tizio lì allora questo gli assegno il lavoro ok ora possiamo cominciare a costruire la scena clicca il più per cominciare ok iniziamo con la scena beh mi ricordo che c'era forse una scena western qui puoi selezionare in quale in quale set ok impostare la scena beh non abbiamo molti molte scene quindi abbiamo un appartamento moderno e diciamo che possiamo farlo lì va bene ora stiamo parlando la puoi vedere che sorte di idee stanno girando per la testa del dello scrittore vai avanti e clicca una per vedere ok ok queste sono le scene a new job non è una brutta idea vai avanti e conferma se sei pronto e allora vediamo un po cosa cosa ha scelto il nostro tizio due nuovi assunti arrivano al lavoro e incontrano il loro goffo boss non so il fatto che ci sia un divano vabbè va bene andiamo avanti l'inizio sembra andare alla grande qui puoi continuare aggiungere scene come vuoi solo ricorda più scene ai più che più scene ai nel tuo film più costoso sarà quando hai fatto clicca conferma facciamo un'altra scena abbiamo ok ok dai un minuto ok ho finito di scrivere la scena puoi vedere il tuo scriptwriter andare e il progresso in alto a destra ok ok ma no non devo fare un'altra scena dici che va bene così facciamo un corto con una scena sola vabbè abbiamo finito la produzione abbiamo due attori due personaggi principali due attrici e due che va bene il requisito era uno scrivere ha specializzato in cortometraggi va bene magari mi da un'idea per un cortometraggio sta cosa scriva di ok possiamo andare avanti a no ok ovviamente merli access inutile dirlo vedete che sta scrivendo ok ok dobbiamo scegliere il director quindi il regista allora io vorrei un regista hanno tutti specifiche diverse john armstrong dalla regista di oggi ha mangiato dai facciamo john altro questo questi baffi così allora vediamo un attimo ha iniziato ok ama kombucha è stato rifiutato dalla scuola d'arte vive in slab city california è andato una scuola di clown pensa che tutto assumiamolo dai mi piace un bel regista controverso lo mettiamo qui ok ora è un buon momento per iniziare a dare che iniziare a dare compiti poi decorare il tuo posto qua all'otto creando un buon ambiente un ambiente migliore per il tuo staff no non mi interessa sembra che il tuo copione sia caldo e pronto per andare in scena seleziona uno dei tuoi registi che hai assunto ok riprendiamo con una videocamerina ci sta iniziare dal basso seleziona una camera sembra che abbiamo è tutto quello che abbiamo nella nostra sgabuzzino sia una vecchia videocamera è ok è tutto quello che abbiamo per iniziare di sicuro generando delle entrate possiamo acquistare delle equipaggi degli equipaggiamenti sicuramente migliori cominciassi e non abbiamo altro possiamo scegliere addirittura pensate andando avanti le lenti focali da utilizzare quindi questa è una buona cosa sarà da approfondire questa è la nuova finestra di produzione e dove traremo traccia di tutto quello che sta andando in scena ok e sulla sinistra vedi le scene del tuo film e in che stato si trovano il centro mostra il setta e dove saranno gli attori sarai in grado di fare il casting agli attori e decidere per la post produzione ok finalmente sulla destra vedrai le statistiche delle tue scena includendo il genere il numero di attori e la checklist vai avanti e clicca sulla prima scena ok questo sarà genere drammatico immagino cast actor ok facciamo un cast per gli attori molto interessante sta cosa è un po mi ricorda un po più che dei movies perché alla fine probabilmente non andremo nemmeno a muovere le telecamere però non è mai detto mi ricorda più uno di quei giochi dev simulator dove si realizzano i videogiochi insomma i programmi software va bene gli attori sono un degli aspetti più importanti del film è importante fare la scelta giusta qui puoi vedere molti ruoli che la tua scena richiede includendo gli attributi che sono richiesti per la scena ok main charter allora sono due uomini due donne ma va vabbè non possiamo fare granché quindi allora a questo dovrebbe essere la quanto stanno in scena ok e il ruolo l'unico dubbio che ho che poi andremo a vedere magari è quanto sarà varia tutto questo un nuovo impiegato pigro che prova vediamo vedo che non è ancora assunto gli attori no problem lo facciamo ora minimizza la finestra puoi sempre tornare cliccando il blue button ok ok allora andiamo ad assumere gli attori allora melody button due donne due uomini abbiamo detto una barbara newman solo perché ti chiami newman ti assumo lo stiamo andando a caso e volevo vedere anche tu lì poi attori uomini ok tu mi piaci poi un altro robert robert perry che piace molto ok ok torniamo a riassumere il casting allora cast 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 ok li vediamo possiamo andare a sceglierli e possiamo anche andare a cambiare il costume di scena scelta solida scegliamo il costume si praticamente dice non vestire da pagliacci perché la critica gli fa pezzi tutto lì ma non abbiamo niente da equipaggiare cioè da mettergli quindi io lo confermo così com'è mettiamo anche il secondo il signor perry mettiamo le due donne che compariranno mello di barton non possiamo cambiare niente qua quindi costumi non ne abbiamo e anche barbara newman ok confermato bene sembra che e million bucks non so cosa voglio dire il casting è fatto ora lasciamo che le videocamere girino quando sei pronto seleziona la scena e clicca film movie scena film movie ok fino a che lo staff sta facendo ok ok stanno facendo stanno facendo stanno filmando ok si vede quello che stanno facendo ah gli attori stanno arrivando stanno arrivando in corsa adesso quindi spero che si prestino presto a girare il film quindi scusate adesso siete tutti qua dentro non si può vedere niente filming vediamo un attimo se production done ok finish movie ora siamo pronti alla rilascio preview movie vediamo 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 perché non c'era post produzione c'era da cliccare ma vediamo cosa cosa succede ma chi è che tiene la telecamera una papera c'è sarà anche un dilettante ma il mio falliniamo è contata minoria ma faceva meglio ma non si vede in faccia ma chi è sto cameraman e lui sa il fatto suo però eh ma di spalle no dai ragazzi non possiamo far uscire una roba del genere poi parla in inglese non è sottotitolato questo è un peccato eh io spero in una traduzione anche se in realtà poi il gioco è decompresso diventato 8 giga quindi mi sa che di scene ce ne sono veramente un'infinità dentro quindi mi fa ben sperare questo non so dire non so dire ancora purtroppo il prezzo perché lo sto provando prima dell'uscita è scelta edc eh che cacchio eh che cacchio sono inutile cacchio devo chiamarlo eh eh è ovvio cacchio ci sono critiche ok sono orgoglioso di te sarai un maestro in tempo zero penso che tutti i vecchi ok va bene allora praticamente qua abbiamo la possibilità poi di ricercare anche di ricostruire un laboratorio per permettere di ricercare nuove tecnologie e quindi ehm anche fare dello scouting quindi abbiamo 97 fan abbiamo un tot di soldi abbiamo ehm la possibilità di andare a acquistare equipaggiamento che cambierà anche la qualità della nostra ripresa fino a 150 mila che sono le ghost non so se le sony forse ci sono le lenti anche vedete che potete acquistare delle lenti che costano una barca di soldi fino a miglio la zeus sarà la zeus insomma 10 milioni costa quella lente lì boh beh questo invece è il ehm rating quindi gli attori che abbiamo attualmente al nostro comando ehm staff non avevamo dei cameraman quindi mi piacerebbe provare ad assumere un cameraman staff questo set audio no me ne serve uno in ripresa vabbè li assumo tutti e due ah eh si si c'è questo caricamento che è un po' fastidioso va bene e poi un altro staff questo è nelle luci no mi serve qualcuno in ripresa questo operating the camera ok voglio vedere se si riesce a fare qualcosa subito un po' così ok vediamo no 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 ah no ma vabbè me la faceva spostare ma poco male allora possiamo iniziare a scrivere una scena non abbiamo facciamo questo studio qui ehm è cambiato tutto quindi abbiamo questa scena qua proviamo dai proviamo intanto lui sta scrivendo la scena probabilmente ok confermiamo proviamo a vedere come viene questo secondo film magari provando ad aggiungere anche qualche operatore di camera e audio insomma adesso lui si sta buttando dentro a scrivere la stesura infatti qua vedete che lo sta facendo mi piacerebbe anche comprare una telecamera nuova ma non abbiamo assolutamente nulla selezioniamo il director la nostra ripresa è questa la scena è questa cast degli attori scena 1 cast attori e prendiamo questi due qui ehm se non è una storia romantica credo però i nostri due punti forti mi piacerebbe filmare con degli operatori di camera ma probabilmente non abbiamo ancora ricercato quella tecnologia lì anche se in realtà che potremmo fare scouting e il lab per le ricerche quindi vabbè peccato vediamo che punto siamo stanno girando il film e poi mi piacerebbe vedere un po' di post produzione che prima non c'era quindi post produce ah no dobbiamo ricercarla quindi non possiamo va bene ehm 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 non lo so come lo chiamerò ehm meno del solito un nuovo film di Indie Game Plate e speriamo bene anche se in realtà con la videocamerina che abbiamo lì non è che venga fuori meno del solito questa è la prima ragazzi solo per voi beh qua la ripresa è mediamente buona anche se non mi convince ti prego non zoomare non zoomare non zoomare mamma mia meno peggio di prima ma perché vuoi fuoco vabbè va bene ehm adesso vediamo quanto ci da la critica beh dai va bene beh i guadagni i fan sono scesi giustamente niente allora ragazzi dovremmo tenere ad occhio assolutamente questo titolo io faccio un save perché è veramente ehm veramente sembra veramente interessante sarà da vedere come verrà portato avanti il titolo però onestamente è stata una sorpresa anche per me l'uscita di questo titolo perché non mi aspettavo uscisse così a breve non c'era ancora una data eh starà in early access per circa 6-8 mesi e eh ovviamente andando avanti miglioramenti che saranno fatti sono aggiungeranno ancora più set ancora più post post produzione ancora più attori insomma ci saranno diverse cose probabilmente magari adesso non avrete mille cose da giocare alla fine ci saranno più di 100 scene girabili quindi insomma di di set ce ne sono al momento l'unica cosa che si può fare approfondire è il discorso della ricerca costruendo appunto il laboratorio e ricercando tecnologia e location nuove ragazzi questo era filmmaker tycoon fatemi sapere che cosa ne pensate noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao 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 ciao